Prosegue a livello diocesano da parte di tutti gli abitanti della diocesi l'impegno, il forte impegno per rivendicare la nomina di un nuovo arcivescovo essendo scaduto il mandato del precedente pastore. Un nuovo arcivescovo e non subordinare la chiesa urbinata ad altre realtà diocesane. Non vogliamo, dicono gli urbinati e tutti gli abitanti della diocesi, perdere l'autonomia diocesana. Domani ci sarà un sit-in proprio qui davanti al Duomo per rivendicare questa nomina, per chiedere fortemente e apertamente che la diocesi d'Urbino non venga lasciata in balia di se stessa e assorbita da qualche altra realtà che ne faccia perdere l'autonomia. Sarebbe la fine non solo della diocesi ma di un intero territorio che isolato già da molto tempo, spogliato già di tante sue antiche istituzioni, rischia adesso anche la perdita della diocesi. Il portavoce dell'apposito comitato dei fautori della nomina del nuovo arcivescovo, Giuseppe Magnamnelli, fa un esplicito invito a tutta la popolazione. Dopo molte iniziative che abbiamo fatto già da diversi mesi, sia contattando le autorità romane, il nunzio, il prefetto della congregazione dei vescovi, la CEM, tutti gli aderenti dei vescovi marchigiani, continuiamo ancora queste nostre iniziative per alzare la voce in modo da poter avere un nuovo arcivescovo per la sola arcidiocesi di Urbino, Urbani a Sant'Angelo in Vado. L'importanza è di natura culturale, storica, logistica e ancor più pastorale e per questo invitiamo caldamente ad essere presenti domani mattina alle 10, venerdì domani, 16 settembre, alle ore 10, qui accanto alla cattedrale. L'appuntamento del comitato pro vescovo è qui, davanti alla cattedrale di Urbino, ci saranno tanto di cartelli e di striscioni e si farà una vera piccola manifestazione ovviamente per rivendicare ancora una volta a viso aperto la nomina dell'arcivescovo. Pertanto l'invito è a partecipare, ripeto, domani mattina, venerdì 16 settembre, alle ore 10, qui accanto alla cattedrale.